Come mai i teatri sono vuoti? Solo perché il pubblico non ci va. La colpa? La colpa è tutta dello Stato. Perché non si istituisce il teatro dell'obbligo? Se ogni persona sarà costretta ad andare a teatro, le cose cambieranno immediatamente. Perché pensate abbiano creato la scuola dell'obbligo? Nessuno ci andrebbe a scuola se non fosse costretto ad andarci. Per il teatro, anche se non è facile, forse si potrebbe senza difficoltà fare lo stesso. Con la buona volontà e il senso del dovere si ottiene tutto. Si potrebbe istituire il teatro dell'obbligo già a cominciare dai bambini. Logicamente il repertorio di un teatro per bambini sarebbe costituito esclusivamente da favole, come Ansele Gretel, o Il lupo, o Le sette biancanevi. Cento ragazzi per ogni scuola. Cento scuole per ogni grande città. Fa in totale centomila ragazzi. Ma voi pensate per quanti attori si creerebbero così delle occasioni di lavoro. Decretato a livello regionale, il teatro dell'obbligo sarebbe un motivo di incremento per l'intera vita economica. E non è certo la stessa cosa dire ci vado stasera a teatro oppure oggi devo andare a teatro. In più, con l'obbligo, ogni singolo cittadino rinuncia spontaneamente a tutti quegli stupidi divertimenti serali come i birilli, i tarocchi, le discussioni di politica in birreria, gli appuntamenti, per non parlare di quei finti giochi di società come attenti all'uomo nero, sardo, presto, mi tua moglie, che servono solo per perdere tempo. Il cittadino sa che andare a teatro ha un suo dovere. Non è più necessario che scelga lo spettacolo talo o tal'altro. Non ha più dubbi. Ci vado stasera a vedermi Tristano e Isotta? No, ci deve andare per forza perché un suo dovere è costretto ad andare a teatro 365 volte all'anno. Che il teatro gli faccia schifo oppure no. Anche a uno scolaro fa schifo andare a scuola. Però ci va volentieri. Perché è un suo dovere. È un obbligo.